Ciao gente, 1997, un formidabile anno di sole per vecchi e giovani. Quello che sentite in sottofondo è un vecchio sound bichisato tutto per voi. Sì, molti sicuramente avranno già riconosciuto questo motivo. E ora, prima di interrompere il titolo, ci tappiamo la bocca e alziamo il volume a tutto gas. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.